Ciao a tutti, sono tornata, evviva! Questa è una bandierina che ho preso là perché quando giravamo e tutto quanto ci siamo incappati in una sorta di gara ciclistica e distribuiono tutte queste bandierine e tu potevi fare il tifo, io ovviamente mi sono subito immedesimata in un'inglese tifosa Allora, non so neanche da dove partire Allora, ci è piaciuta tantissimo Londra, ci siamo stancati tantissimo abbiamo camminato tantissimo, abbiamo mangiato tantissimo Cosa dire? Sicuramente tra le cose che più mi hanno colpito sicuramente i parchi, in assoluto Hyde Park e Regent Park stupendi, veramente sensazionali, senza parole cioè tu all'interno di questi parchi puoi fare qualsiasi cosa quindi puoi andare in bici, puoi prendere il pedalò ci sono dei gruppi comunque che fanno yoga, che fanno breakdance che vanno sui pattini, cioè praticamente sei stimolata veramente a 360 gradi oppure se sei stanca, nel nostro caso spesso eravamo esausti, sfiniti invece di andare in albergo comunque a riposarci andavamo proprio su questi parchi perché tu ti butti nell'erba e ti riposi e vi posso assicurare che per me, che normalmente dormo con i tappi quindi mi dà fastidio qualsiasi tipo di rumore mi sono addormentata, quindi sono veramente molto rilassanti ci si sta veramente da dio, quindi i parchi in assoluto e lo Shard, che dovrebbe essere il gattacielo più alto di Europa ragazzi quando sono salita, 30 sterline a testa perché insomma Londra non è sicuramente economica però mi è piaciuto tantissimo e sono veramente emozionata cioè non mi era successo neanche a New York sui grattacieli di New York, Top Rock eccetera quindi però bellissimo perché vedi tutto da su vedi la ruota, tutte queste luci cioè comunque noi poi ci siamo andati in un orario molto strategico perché era il tramonto e quindi abbiamo visto proprio questo sole che scendeva e in più tutte queste luci contemporaneamente che si accendevano quindi stupendo veramente bello 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 sì, più che altro queste due cose non siamo riusciti ad andare a Brighton come volevamo perché comunque Londra è veramente piena piena di cose da vedere che neanche io mi aspettavo cioè sono 200 miliardi di cose da vedere abbiamo fatto le chiese, Westminster, St. Paul tutte queste cose qui diciamo che le cose principali, le attrazioni principali quindi Madame Tussauds, London Eye tutte queste cose le abbiamo fatte quindi per carità però sicuramente le cose un pochino più diciamo ricercate un pochino più di nicchia non siamo riusciti a farle assolutamente per quanto riguarda settore alimentare diciamo Londra è un po' un disastro non sono riuscita assolutamente a seguire la dieta come diciamo che immaginavo nemmeno il martedì e il venerdì perché innanzitutto non sapevamo dove andavamo a pranzo quindi era un po' una cosa così a sorpresa nel senso che camminavi, camminavi, camminavi e poi quando ci avevamo fame trovavo un posticino che comunque non era neanche facilissimo trovare un posto dove mettersi seduti comunque riusciti ad andare in bagno e tutto quanto perché lì comunque è un po' anche alla New Yorkese nel senso che trovi moltissimi localini che ti danno un pasto molto veloce diciamo take away invece noi da buoni italiani volevamo sederci consumare quella mezz'ora stare seduti consumare il nostro panzo quindi diciamo che ci hanno salvato i pub più che altro quindi là sono stupendi questi pub cioè sono legno massiccio lampadari favolosi sono stupendi chi ci è andato sa sa come sono e quindi più che altro mangiavamo lì quindi hamburger, patatine, le salads quindi queste insalate con la carne all'interno più che altro cose così quindi vi potete immaginare è assolutamente impossibile evitare cose fritte quindi nickel e glutine quindi hamburger però tutto sommato non sono stata malissimo perché mi è successo di stare un pochino male solo il sabato mattina con un po' di confiore un po' di dolori perché la sera prima avevo provato una cheesecake che era buona però probabilmente ho chiesto troppo al mio organismo quindi ci sta nel frattempo ho continuato a assumere gli integratori che li avevo portati e quindi solo una volta da quando sono ritornata ho ripreso ovviamente la mia alimentazione dietetica che poi vabbè voglio dire sono stata male soltanto una volta dopo quando sono tornata a casa un giorno pure un pochino di dolori l'ho avuti però sappiamo bene che in queste allergie soprattutto di accumulo non so negli alimenti comunque soprattutto quelli diciamo tossici considerati tossici al nostro organismo vengono un attimino recepiti un pochino più a lunga a lungo durata quindi diciamo che può darsi che qualche strascico poi si sente dopo però già mi sono gonfiata tantissimo in tre giorni che comunque sto rifacendo dieta quindi ok per il resto va tutto bene l'unica cosa ecco appunto noi avevamo l'albergo in zona 2 quindi non centralissimo e gli ultimi giorni sono stati veramente distruttivi distruttivi stancanti tantissimo perché comunque là io penso spero che sia una cosa comune a tutti gli alberghi che comunque hanno dei letti a una piazza e mezzo e quindi oltre a questo sono scomodissimi cioè non si riesce a dormire assolutamente e inoltre hanno il lenzuolo e la coperta attaccati quindi non sono due cose divise quindi non so se c'hai caldo levi la coperta e tieni il lenzuolo no sono attaccati quindi o sentivi tanto tanto freddo o sentivi tanto tanto caldo insomma fatto sta che gli ultimi tre giorni avrò dormito sennò 3-4 ore a notte con il risultato che la mattina andava in giro uno zombie totale proprio e dovevi camminare quindi gli ultimi giorni sono stati veramente distruttivi cioè mi sentivo veramente stanca veramente sentivo proprio la necessità anche di tornare per quanto mi è piaciuta Londra però la stanchezza che si era accumulata cominciava a essere parecchia quindi questi giorni ho messo un po' anche a fare il video perché appunto questi giorni mi sto un attimo riprendendo poi vabbè c'è stato ferragosto di mezzo eccetera però mi sto riposando tantissimo perché ne avevo proprio bisogno ok poi adesso vi faccio vedere un po' di gadget che ho preso quelli che ho preso per me vi faccio vedere sono questi orecchini vedete questi a pallina con la bandiera poi vabbè io perché sono un po' fissata con gli orecchini poi ho preso questi c'è ancora il prezzo due sterline l'ho pagati questi è il Big Bang secondo me sono carinissimi e poi sempre piccolini questi credo averli presi a Portobello Road che è una zona diciamo la zona di Notting Hill chi conosce penso che sa e c'erano tutte queste cose antiquariato un po' particolari e poi questi vedete i soldatini sempre orecchini che mi piacevano era una cosa particolare poi sempre a Portobello Road ho preso questo orologio con tutti questi braccialettini attaccati mi piaceva e con la bandiera sempre questo qui ce ne erano veramente di spettacolare li avevo dovuti comprare assolutamente tutti poi vabbè ho preso altre cose ah ecco una cosa assolutamente ragazzi è freddissimo veramente freddo io ho comprato quelle maglie felpate con scritto Londra insomma perché era una cosa veramente freddo e vi dico da una parte è meglio perché riesce a girare bene io l'anno scorso ero stata a Madrid con 40 gradi assolutamente giravo un'ora ed ero finita perché con 40 gradi invece qui riuscivo a girare molto bene però la sera e la mattina presto comunque era veramente veramente freddo quindi mi mettevo 5 strati di maglie tipo una cosa così perché cioè vabbè poi sono freddolosa ok però era veramente freddo questo ci tengo a dirlo perché è così poi per quanto riguarda i prodotti ovviamente ne ho usati se no alla metà ovviamente e vabbè i prodotti che ho usato di più sicuramente sono le matite e mascara neanche tantissimo perché poi succedeva che rientravo in un albergo ero stanca morta mi scordavo di struccarmi il mascara fa un casino se voi vi dimenticate di struccarmi quindi il mascara l'ho usato poco in realtà però in realtà più o meno sì ho usato più che altro le basi quindi fondotinta correttore queste cose così poi tra l'altro vi volevo fare un video che adesso sto parlando anche parecchio vi volevo fare un video sui prodotti sono stati alcuni prodotti flop che mi sono portata in vacanza e alcuni prodotti invece che mi hanno colpito positivamente quindi vi volevo fare un video a parte e vi parlerò subito di quei prodotti non appena un attimo mi ricompongo anch'io quindi a presto al prossimo video ciao ciao ciao